Questa è Emma Stone in The Amazing Spider-Man, questa è Emma Stone in La La Land, questa è Emma Stone in Povere Creature. Ma chi è veramente Emma Stone? La nostra Emily Jean Stone, detta Emma, è nata a Scottsdale il 6 novembre del 1988 ed è un'attrice produttrice cinematografica statunitense. Ha studiato alla sequoia Elementary School e ha frequentato la Coco Pa Middle School, anche se non era una grandissima amante della scuola. Voleva recitare sin dall'età di 4 anni, così dal gennaio del 2004 si trasferì insieme alla madre in un appartamento a Los Angeles e da qui nacque tutto. Ma prima di iniziare, ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Nel 2004 la nostra Emma prende parte a due serie tv molto famose, ovvero Jack e Cody al Grand Hotel e Marco. Nel 2007 debutta sul grande schermo nella commedia Sucks Bed, 3 metri sopra il pelo. Al fianco di Jonah Hill. Nel 2008 entra a far parte del film The Rocker, il batterista nudo, ruolo con la quale ha imparato a suonare il basso. Lo stesso anno recita in La Coniglietta di Casa. Nel 2009 prende parte alla Rivolta delle Ex con Matthew McConaughey e anche all'Horror Benvenuti a Zombieland con Woody Harrelson e Jesse Eisenberg. Nel 2010 la troviamo in Sansone e Easy Girl, mentre nel 2011 fa parte del cast di Crazy Stupid Love con Steve Carell e Ryan Gosling, per poi arrivare anche nel film The Help con Viola Davis. E uno dei ruoli che più mi è piaciuto della nostra Emma Stone è arrivato nel 2012, ovvero quello di Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man, che è stata una cosa pazzesca. Con la regia del nostro Mark Webb ha portato sul grande schermo il nostro uomo ragno con il 3D ed è stato veramente molto bello. Tra l'altro questo personaggio diciamo che l'ha fatta diventare molto popolare perché ora come sapete bene i cinecomic stanno spocolando in tutto il mondo. Quindi avere un ruolo principale all'interno di cinecomic ha fatto sì che la sua carriera crescesse di parecchio. Nel 2013 prende parte a Gangster Squad, sempre con il nostro amato Ryan Gosling. Mentre nel 2014 ha il sequel di Spider-Man, ovvero The Amazing Spider-Man 2, per poi arrivare anche in Magic in the Moonlight di Woody Harrelson e anche in Birdman di Inarritu accanto a Michael Keaton. Ruolo che gli consentì la possibilità di vincere varie candidature. Nel 2015 arriva anche al cinema con Irrational Man con Joaquin Phoenix e anche in Sotto il cielo degli Hawaii assieme a Bradley Cooper. Arrivati nel 2016 arriva il film che l'ha resa famosissima, ovvero La La Land, pellicola diretta da Chazelle insieme al nostro Ryan Gosling, strano, il che gli consentì di vincere un tritello di premi. Difatti si aggiudicò il premio Oscar come migliore attrice, il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale, il British Academy Film Award come migliore attrice protagonista e lo Screen Hector Bill Award come migliore attrice protagonista cinematografica. Ha proprio spaccato di brutto sto film. Proseguendo ritorna nel 2017 con La Battaglia dei Sessi, nel 2018 con La Favorita, nel 19 con Zombieland, doppio colpo, nel 21 con Crudelia, film live action della Disney dove interpreta la nostra Crudelia Demon spin off della carica del 101. E arrivati al 2023 la nostra Emma Stone la ritroviamo nelle sale cinematografiche nella pellicola Povere creature, tratta dall'omonimo romanzo di Alasdar Grey, dove resce d'accanto a William Defoe e a Mark Raffalo. Il film si dimostra stupendo e vince anche il Leone d'Oro all'ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E li consentì alla nostra Stone di vincere anche un Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale. Che dire ragazzi, non si può dire che questo non sia un percorso cinematografico da buttare, anche perché continua ad andare in salita e a vincere premi. E non ci resta che dire che sia una grandissima attrice e che si meriti tantissimo. Io comunque vi ringrazio, vi chiedo di seguirci su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube cliccando anche sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Kappa Nerd qui oggi è tutto e noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.